Bologna mi sento bene, ho 35 anni ma posso dare ancora molto alla squadra. Rodrigo Palacio, dodicesimo argentino della storia rosso-blu, si è presentato così, maglietta bianca, testa rasata e trenza, treccia, d'ordinanza. Ha subito parlato dell'età, anticipando le domande che inevitabilmente, con la sua anagrafe, si sarebbe attirato. Classe 1982, è il più vecchio attaccante ad approdare in rosso-blu? Chiaro, ammette l'ex interista, non sono ancora al 100% anche se mi sono allenato molto da solo. Ci vorrà un po' di tempo, ma conto di essere pronto abbastanza presto. Ho parlato con Donadoni, e mi ha detto, che dovrò essere utile per i compagni. Sono qui per questo, e anche per far segnare destro.